La vita è 30 per il video, paramento è numero 44, stretch, e quindi è numero 81, say. La vita è 30 per il video, paramento è 30 per il video. Passi miliano, paramento è 30 per il numero 1, viceversa, numero 2, Mattia, numero 3, Layslund, numero 5, Manuel, numero 6, D'Assilva, numero 9, Ducene, numero 11, Fuerte, numero 15, Federico, numero 18, Moistre, numero 20, Fabio, numero 5, Pieri, numero 25, Alien, a disposizione di Carmillaelli, 23 per il sogno, 36 per il secondo, 1-2-20, 12 di Alessandro, 14 di Milik, 17 di Kostic, 29 di Lunaria, 24 di Lugani, 28 di Zaveria con le 30 scelte e con la maglia numero 44 a Giorgio. Bianconeri, su da sempre, 4 voce e poi l'uomo, fino alla fine, forza! Grazie a tutti!